Prima gli insulti, poi gli spintoni, infine l'aggressione a colpi di bottiglia. È la cronaca della violenta rissa scoppiata ieri sera intorno alle 22.30 sul porto di Trani. A fronteggiarsi due gruppi di giovanissimi, tutti minorenni, passati presto dalle parole alle mani. Una lite nata per motivi banali e poi degenerata. Tra i ragazzi ad avere la peggio è stato un 17enne di biceglie, colpito alla testa e poi ferito al collo e al volto con una bottiglia. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 che dopo aver prestato i primi soccorsi al minore lo hanno trasportato in codice rosso presso l'ospedale Bonomo di Andrie. Con i medici sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti del commissariato locale che hanno raccolto le prime testimonianze dei presenti per ricostruire l'accaduto. Il giovane ferito, cosciente all'arrivo dei soccorsi, ha raccontato di essere stato insultato assieme ad alcuni amici e poi aggredito da alcuni coetani. All'origine del diverbio, probabilmente, la provenienza dei due gruppi, tranesi da una parte, bicegliesi dall'altra. Il responsabile del ferimento sarebbe già stato identificato. Quasi esattamente due anni fa, nella notte tra il 19 e il 20 settembre 2015, nello stesso posto dove è scoppiato il litigio tra Piazza Querce e via Fabiano, un'altra rissa era costata la vita ad un 34enne, Biagio Zanni, colpito a morte con due coltellate. Tre, i giovanissimi coinvolti, assieme ad un maggiorenne, arrestato qualche giorno dopo il fatto. La vittima, secondo la ricostruzione poi fatta dai carabinieri, era intervenuta per difendere un amico dopo un diverbio iniziato davanti ad un locale del porto. La parte finale dell'aggressione venne ripresa da alcune telecamere installate nella zona, che filmarono Zanni mentre, ferito, si allontanava in cerca di aiuto, inseguito da tre ragazzi. Il 34enne verrà prima trasportato al pronto soccorso dell'ospedale locale e poi al bonomo di Andria, dove morirà poche ore dopo.